bang vedeva correre là sotto alberi case prati colline borghi come presi da un'improvvisa pazzia di fuga in vano tentava di arrestare il vertiginoso volo dell'ornis si alzava e si abbassava prendeva a destra a sinistra ma non dava segno di volersi fermare o di scendere a terra più a volte bang aveva creduto di sbattere su una roccia di vedere sfasciarsi l'ornis urtando un campanile incontrato al volo dopo tre ore però aveva potuto notare l'effetto di certi movimenti del manubrio e già riusciva a dominare la forza del meccanismo manteneva l'ornis a una discreta altezza ne moderava la velocità gli dava la direzione ma bang si sforzava in vano di farlo scendere a terra riuscì di nuovo a trasmettergli quel movimento che lo faceva rimanere sospeso in un punto come un uccello da preda così ebbe modo di aprire la cassetta delle provvigioni e mangiare qualcosa passata la prima impressione di terrore bang si era rallegrato di essere riuscito a salvare dal furore dei marinai l'amirabile invenzione del suo padrone se avesse saputo da che parte andare per arrivare a cristania avrebbe rivolto l'ornis verso quel punto dove si trovava in quel momento vedeva là sotto un gran mucchio di case distingueva le strade le piazze e la gente che sembrava guardare lassù verso l'ornis stupita di quella forma di uccello di colossali dimensioni mai viste prima non prevedeva che prima di arrivare a cristania la notizia dell'ornis sarebbe già stata stampata grazie al telegrafo nei giornali della sera e che il signor airman garbor avrebbe potuto leggerla senza indovinare che quel colossale uccellaccio fosse il suo ornis fortunatamente era il mese di luglio altrimenti bang sarebbe morto assiderato passando la notte esposto all'aria a quell'altezza fortunatamente c'era anche un bel plenilugno e un cielo senza una nuvola perciò bang poteva volare tutta la nottata senza più arrestarsi via infine pensava la carica dell'apparecchio dovrà esaurirsi con rallentarsi del movimento l'ornis sarebbe sceso giù lentamente e lui avrebbe rimesso i piedi sul terreno solido quante miglia aveva percorso non sapeva farsene un'idea moltissime certamente lo deduceva dalla natura dei luoghi che ora al barlume dell'alba distingueva benissimo ma quando spuntò il sole bang ebbe la cattiva sorpresa di vedere che l'ornis si dirigeva verso il mare se bang avesse saputo la geografia del suo paese avrebbe riconosciuto in quella distesa d'acqua il gran lago di vener nel gottland che a 140 chilometri di lunghezza 80 di larghezza avrebbe capito che era passato da cristiania lasciandosela di lato e deviando verso il vener e se ben che fosse stato indovino avrebbe saputo che quel treno che corriva alla sua destra e che sembrava dallassù uno di quei treni di latta che servono a divertire i bambini portava da cristiania a stoccolma il suo padrone il signor garborg non avendo trovato a cristiani il suo amico professore andava a cercarlo a stoccolma dove quegli si era regato per affari appunto da quel treno un viaggiatore scoprì l'ornis e lo indicò ai suoi compagni di vagone tra i quali si trovava il signor garborg lui puntò il canocchiale verso lo strano uccello che volava con la stessa direzione del treno tirò fuori un urlo e cadde svenuto credendo che un'invenzione simile alla sua gli togliesse il primato e lo rovinasse verso sera beng si vide apparire da lontano i tetti di una grande città posta a cavallo di due mari la visione era approssimativa ma da ragazzo incolto come lui non si poteva pretendere che riconoscesse stoccolma in quella città era stato ripreso dal terrore di un disastro vedendo che non riusciva a rallentare neppure a fermare il volo dell'ornis aveva le orecchie assordate dal rumore delle palette o vele o ali che si vogliano dire che non smettevano mai dal batter l'aria e così creare il movimento aveva terminato le propigioni e moriva dal sono e dalla stanchezza di tenersi dritto e fermo sul sellino la vista della città verso cui volava e che sembrava invece gli andasse incontro quasi per festeggiarlo e citò la sua gioia muscolare si trovava sulle ultime case in rival baltico quando diede un disperatissimo strappo al manubrio l'ornis vacillò barcollò le pallette si arrestarono si piegarono come se la vita gli fosse a un tratto mancata e dalla folla che osservava la meravigliosa apparizione non sapeva rendersi conto se si trattava di un mostruoso uccello di un ordigno l'ornis fu visto precipitare a poca distanza da una barca che usciva a largo per la pesca l'ornis affondò quasi subito ma i marinai poterono salvare riccardo bang che si era lasciato cascare in mare prima che l'ornis toccate la toccasse l'acqua dal racconto di bang e dalle altre notizie ricevute dai telegrammi dai giornali il direttore della polizia poté convincersi che quell'avvenimento era in relazione con la pazzia di un viaggiatore di cui non si era potuto sapere il nome perché il pazzo non aveva voluto dirlo poi i generali politici identificarono il pazzo con quel herman garborg che i caricaturisti avevano perseguitato quasi ogni giorno per più di un anno e che era sparito da stoccolma facevano voti perché il grande inventore ora lo chiamavano grande inventore anche i giornali umoristici presto guarisse e arricchisse l'umanità di un mezzo di locomozione che soprapassava tutti gli altri invitati finora ma il povero herman garborg morì senza aver recuperato la ragione e bang accompagnandone la salma al cimitero pensò che quel pastore forse aveva ragione sostenendo che l'uomo deve servirsi soltanto delle gambe per andare da un luogo all'altro se dio avesse voluto che l'uomo volasse non gli avrebbe fatto le ali lui ripeteva come quel giorno che garborg aveva parlato della sua invenzione ma dio non aveva anche dato all'uomo l'intelligenza per cercare modo di farsele da sé e il povero bang non sapendo cosa pensare ringraziava intanto il signore che lo ha fatto salvare da quei barcaioli non sapendo l'uomo